Non più la statua in bronzo del celebre condottiero Erasmo Danarni, detto il Gattamelata, ma una copia perfetta al suo posto. Cambia il volto della Piazza del Santo, dove la statua di fatto rimarrà. Realizzata da Donatello a metà del XV secolo, la statua equestre sarà accompagnata all'interno del complesso Antoniano, dove saranno studiati i percorsi di valorizzazione. La sua copia perfetta resterà sul sagrato della Basilica, così come è accaduto per il Marco Aurelio del Campidoglio o i cavalli della Basilica di San Marco a Venezia. Inquinamento e processi inevitabili legati al tempo, oltre ai danni dovuti al guano dei volatili, hanno convinto la delegazione pontificia che si occupa della tutela dell'incommensurabile patrimonio artistico-culturale della Basilica della bontà della soluzione, un'operazione pensata all'interno dello stesso complesso Antoniano, che sarà condotta ai massimi livelli scientifici. Un progetto che necessita dell'impegno delle istituzioni e di una visione condotta e partecipata delle migliori forze pubbliche e private per poter approdare a una realizzazione in tempi ragionevoli.